Microsoft ci riprova saltando un passaggio. Così poco amato è stato il sistema operativo Windows 8 che si passa direttamente al 10 e chi possiede le versioni precedenti, 7 compresa, per un anno potrà effettuare l'upgrade gratis. Arriva inoltre sui PC l'assistente vocale Cortana, andrà in pensione anche Internet Explorer, sostituito da Spartan. Windows 10 inaugura un'era nella quale primeggeranno l'uso del mobile, del cloud, su quello del personal computer. Stiamo costruendo nuove esperienze dalla produttività al gioco, per permettere questo passaggio senza soluzione di continuità da un device all'altro, da casa al lavoro. Se fin qui si resta nel presente, sono gli HoloLens a proiettare la casa di Richmond con più decisione nel futuro. Indossando questi occhiali non solo si vedranno ologrammi sovrapporsi a oggetti reali, ma si potranno anche gestire con semplici movimenti delle mani.